Il rilancio del teatro Maruccino di Chieti passa anche attraverso una nuova scuola di teatro che è un progetto sul quale voi credete molto? Sì, in realtà non è un progetto nuovo perché la scuola è attiva da parecchi anni, si è strutturata come scuola nel 2017, però precedentemente abbiamo fatto varie forme di convenzioni e altri atti per poter inserire questa scuola nel teatro e quindi per noi è molto importante, sì, anche perché due anni e più di sospensione ci hanno penalizzato molto, non abbiamo potuto fare lezioni online, non abbiamo potuto fare niente e giustamente i bambini, i ragazzi, i adulti poi verrà esposto meglio tutto il programma e aspettano. Riparte da ottobre la scuola di teatro quindi di recitazione al Maruccino di Chieti con un programma ben definito. Sì, i corsi saranno tre e saranno favolando per i bambini da 6 a 12 anni, poi il corso innamoramento al teatro dai 12, 13 ai 18 anni e poi c'è il corso teatro che è passione che dai 18 ai 99 anni. Non mettiamo limiti di età perché crediamo molto in questa attività e vogliamo che il teatro sia vissuto da tutta la cittadinanza e questo meraviglioso teatro sia veramente la casa dei teatini. Dove e come ci si potrà iscrivere al corso? Presso qui il botteghino, presso la segreteria oppure anche online, c'è proprio un modulo di iscrizione e le iscrizioni sono aperte. Cosa prevede il corso in sé per sé? Allora noi facciamo soprattutto innamoramento al teatro perché soprattutto con i bambini lavoriamo con le favole, facciamo un lavoro di preparazione alla recitazione. Quest'anno prevediamo la collaborazione con una nazione perché la caratteristica della scuola di recitazione del teatro Maruccino è proprio quella di fare le settimane della cultura che sono delle settimane dove si va a lavorare proprio a conoscere la cultura di un paese. Negli anni passati abbiamo fatto la Cina, il Brasile e quest'anno faremo probabilmente un lavoro di collaborazione con l'ambasciata francese e quindi andremo a conoscere in particolare la drammaturgia francese e tutto quello che concerne la cultura francese. E in vista della stagione invernale si punta molto anche sulla lirica? Senza dubbio la lirica avrà tre spettacoli a ottobre, novembre e dicembre, la Madame Butterfly a ottobre, a novembre la Cavalleria Rusticana e a dicembre il Don Pasquale di Donizetti. Ovviamente sono già aperte le prenotazioni per fare l'abbonamento al Botteghino e quindi contiamo di avere anche qui un pubblico numeroso come è stato in effetti per l'anno scorso e così come per la prosa.